Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a parlare di Copovoce. Uno o due giorni fa un utente ha fatto delle domande riguardo a Copovoce. Oggi ho voluto portarvi in video in cui andremo a vedere le offerte che hanno e le tipi di promozioni che hanno da abbinare l'offerta. Comunque tra un po' non vedrete più e sentirete solo la mia voce e vedremo insieme le offerte varie e le varie promozioni. Ok, a tra presto, tra qualche secondo, ci vediamo nel video. Ciao ragazzi, siamo nella pagina di Copovoce ed andremo ad analizzare le offerte che hanno. Non sono molte, ok? Generalmente sono tutte ultra costose, ma c'è un ma e adesso andremo a capire perché. Allora intanto, piccola premessa, Copovoce è l'operatore virtuale del gruppo Copo, ovviamente, che opera sotto rete team 150 mega in upload, in download e 50 in upload. Cosa ha di interessante, secondo me? Che in base a gli euro che spendete di spese, ad esempio, se siete clienti Copo, facciamo un'ipotesi, e fate un tot di spese, con spesa dai 250 euro di spese, vi danno 5 euro di ricarico a maggio. Quindi magari se siete in una famiglia, fate che non so, boh, 400 euro mese, facciamo 300 euro mese, ecco diciamo che l'offerta non la pagate, in quel caso. Però, cosa che ha di interessante? Che, oltre a questo, ha anche un'altra promozione, che andremo a vederla subito, prima di vedere l'offerta, andiamo a vederla. Fai pieno di giga semplicemente pedalando con Vivi Bici. Ok. Allora, se non mi sbaglio, vi danno 200 megabyte ogni chilometro, se non mi sbaglio, fino a 10 chilometri. Eccolo qua. Sì, eccolo qua, vedete. Grazie all'app Vivi Bici, ogni chilometro accumulato in bici, chiamato chilometro a voce, sarà convertito giornalmente in 20 megabyte, fino a massimo di 10 giga al mese. Vedete, ogni chilometro vi danno 20 megabyte. Ah, ok. Quindi comunque per fare 10 giga dovete pedalare tanto, insomma. Il traffico ha aggiunto, corrispondente chilometri registrati nell'app e in criteri impostati, vi danno uso improprio e sarà accreditato giornalmente dentro le ore 10 del giorno successivo. Sì, praticamente da quello che c'è scritto qua, vi accreditano giornalmente quello che fate. Ne so, se fate, boh, se vi guadagnate che ne so, 100 megabyte, il giorno dopo vi arrivano. Vabbè, diciamo che poi sarei utili. Ipotizziamo che una persona usa tanto la bici, o è un ciclista, o magari è una persona che usa tanto la bici per andare a lavoro, o magari lavora in città e quindi magari la macchina la usa per le ZTL, così così, può essere interessante, ok? Non è un granché, non è molto, ma se uno fa tanto la strada, diciamo che è una buona iniziativa. Io avrei fatto qualcosa di diverso, magari che non so, mezzo chilometro, magari che non so, un chilometro 50 mega almeno. Però, vabbè, se uno pedala tanto fa presto a fare chilometri, però, insomma, ora, andiamo a vedere le offerte che le abbiamo saltate. Bene, l'evo 50 è costosa, ok? dettaglio offerta, perché vi dà minuti limitati, 1000 SMS e 50 GB in 4G, ok che è per sempre, ok che ha il riparti, ok che coprovoce non hanno mai rimodulato, come c'è scritto qua, generalmente i virtuali non rimodulano mai, non ho mai sentito i virtuali che rimodulano, possono essere spesi in più, impreviste, ma rimodulare è difficile, può succedere, ma è difficile, fin adesso non è mai successo, quindi. Comunque, cosa di bello? Dicevo, ora vorrei andare a vedere, dicevo, se ricevi attivi, ok, diamo un'occhiata a nascondere, con la nuova evo 50, 50 GB sulla rete mobile, 4G di Telecom Italia, massima e velocità, massima, e 150 MB circa e 50 in upload, minuti limitati, 1000 messaggi, l'offerta è sede nuova al giorno ogni mese, per sempre, coprovoce non ha mai aumentato i prezzi, entro in coprovoce online, o in ritiro in negozio, passare a tuo numero coprovoce o attivare un nuovo, non è mai stato così semplice, richiede la tua offerta evo online, puoi ricevere la sim a casa o ritirarla in un punto copro, insomma. Se ricevi attivi da casa, nessun costo di spedizione, nessun costo sim. Se ritiro in un punto vendita copro, dato sim, costa 10 euro, con 5 euro di traffico incluso. Ah, quindi, ok, facendo online, pagate zero, nessun costo di spedizione, nessun costo di sim. Vabbè, zero, pagate l'offerta, il mese dell'offerta, basta. Beh, diciamo che è interessante. Se sei già cliente coprovoce, passarevo 50, costo di 9 euro, beh, ci sta, dai, onesto, come prezzo. Molte famagare a 15 euro, o molti addirittura non ti danno questa possibilità. Alcuni sono gratis, sì, ok, come spuso, come fastweb. E, inclusi gratuitamente in offerta, hotspot, ti ho cercato, chiamavo ora, assistenza fai da te con specialista via app e chat, tutti i minuti, sms, giga e in Europa. Beh, ok, questo non lo sapevo. Quindi, periente, tutti i tuoi minuti, messaggi e gigabyte, li puoi usare in Europa. Quindi non è come le altre offerte. Quindi 50 giga, se viaggiate, potete usare in Europa. Ok, qui il discorso cambia. Perché diciamo che uno viaggia, allora ci può stare 9 euro e 50, perché se voi fate una sim locale, là, in loco, in Europa, se ne avete una sim con un piano abilitato in Europa, anche se, vabbè, è anche vero che, grosso modo, tutte le tariffe telefoniche sono abilitate a usarle in Europa, solo che non vi danno il quantitativo uguale. Ad esempio, se avete 50 giga qua, generalmente vi danno 5 giga, 4 giga, c'è una formula. In sto caso, tutti, questo è buono, direi, questo è molto buono. Lo questo fa, solo dava buono a mobile. E forse c'è anche un'offerta della team, l'impari, sms, team per te, 50 m, se non sbaglio, che i 50 giga o maggio che vi davano, attivando la tua ricarica, potete usarle tutti in Europa. Non sono molti che fanno la sua cosa, però è ben accetto. Ipotizziamo che uno viaggia, perché no? Numero di sovrapprezzo bloccati, pianeta di rifare base, vediamo subito qual è. È costoso, di solito, sono sempre costosi. 12 centesimi al minuto, 12 centesimi messaggi, scatta risposta a 12 centesimi, internet di centesimi megabit. Parla con tutti per tanto tempo. Ok, parla con tutti i numeri nazionali di qualunque operatore, qualsiasi ora del giorno, con 6 centesimi ogni 30 secondi. Ma, non lo so. Forse può darsi che sia un'offerta che potete attivare, se è andato a consumo, però non... Comunque, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Come si attiva, l'abbiamo già visto. Quali sono i dettagli, i vantaggi. Corsi per farci al copo, parlare, spendendo a 12 centesimi. Ah, ok, vediamo come si fa attivare. Chiarando. Ok, potete fare il cambio piano. Bene. Solo il primo cambio piano, tariffario gratuito. Ok, il primo cambio è tariffario gratuito, bene. Per i cambiamenti successivi è previsto a un costo di 5 euro. Questo costa 5. Però l'offerta che stavamo guardando prima, bisogna vedere se... Dovrebbe essere qua. La sim con forza, 12 euro più 5 euro di traffico. La promozione si richiede passaggio online. La sim che riceverai non avrà traffico incluso, il primo mese compreso. Ah, quindi, da quello che ho capito qui, il primo mese è compreso. Quindi pagate zero, prendete. E pagando zero, vi arriverà la sim con spedizione gratuita, attivazione gratuita, spedizione gratis. Nessun traffico, però, ha già compreso un mese. E quindi, in teoria, pagate zero. Eccolo qua, sì. Identificazione via webcam. Ok, classico. Punto vendita ovviamente non serve. E qui c'è il tutorial, ma... Per conoscere la zona coperta, Coppovoce 4GB, vabbè, è team, comunque, da fin dei conti. Sì, è un virtuale, però, grosso modo, copertura team. Io ho il mio cognato, che ha Coppovoce, da penso un anno, dove era quella che dava 30GB, se non è sbaglio. E mi pare che li abbiano mandato a 50GB gratis, se non mi ricordo male. Ok, quali sono i vantaggi? Senza la risposta, come si entra in single copybite, spedizione sms, vengono applicate le condizioni standard. Ok, bene. Come si controlla il traffico residuo? Ok, chiamando un numero, ho con l'applicazione. Come si rinnova il credito residuo? Ok, direi che... Tutti i giga, eccoli qua. I minuti, i messaggi di questa offerta, sono utilizzabili in Europa. Come in Italia. Un'offerta non è valida per il traffico internazionale. Il traffico roaming ex a Europa, quindi fuori dall'Europa no. E l'immunerazione è sovrappresso. I giga, i minuti, i messaggi, non sono consumati in mese, non si somma. I giga, i minuti, i messaggi, se riprendete li perdete. Il traffico incluso nella sim, composto da 1 euro di traffico telefonico, 4 euro di bonus. Il bonus non è rimborsabile, in caso di cessazione della linea, poi sarà trasferito in caso di portabilità del numero. E' compatibile con le altre promozioni. Sì, le altre promozioni, gli dice che comunque, grosso modo tutte le promozioni di Copco, potete fare tranquillamente il passaggio, pagando 9 euro, come c'è scritto su in alto. E ok, c'è nero un'altra, ma però, io questa voglio guardare insieme. Per correttezza, guardiamo, ok. l'evo 10, 5 euro e 90. Allora, sapete cos'è però? Uno vuole farla spendere poco, fare la spesa della Coppa, i 5 euro di ricalco maggio che arrivano mensili, quindi a fine conti pagate 90 centesimi al mese. E perché no? Potrebbe starci, no? 90 centesimi, 10 gigabyte, perché no? Un anziano che magari vuole usare poco, fa la spesa della Coppa, potrebbe anche starci. In casi normali, in cui non fate spese della Coppa, è un nì. Perché a un euro in meno, vi danno 30 giga del solito. Quindi dovete fare due calcoli. Se fate tanti chilometri in bici, però, e se arrivate a fare 10 giga al mese, significa che ne avete 20. Però è anche vero che se fate la spesa della Coppa, e fate tanti chilometri in bici, ragazzi, insomma, allora il discorso cambia. Io parlo di persone che non fanno né la spesa della Coppa, e ne usano la bici, ovviamente in quel caso lì no. Perché di 5,90 euro, di 6 giga no. Questa però, anche questa a fin di conti, 5 euro di ricarico maggio, facendo 250 euro di spesa, che adesso andremo a vedere, che non abbiamo neanche ancora visto. A fin di conti, perché resta 4,50 euro, 50 giga, utilizzabile in Europa, copertura team, e per sempre. E lì, il discorso cambia, perché secondo me non è male. Alla fine a copertura team, c'è team, tiscali, kena, e Coppovoce. Non c'è nessun altro in copertura team, a fine di conti. Poi c'è Evo, SMS, ma questa la paghereste zero, se fate spesa della Coppa. Sì, 4,50 euro, minuti limitati, e 1000 messaggi. Magari l'anziano, lo interessa internet, vabbè, anche se secondo me, tutte le persone, un minimo, almeno un giga, gli hanno bisogno, per fare i messaggi di Whatsapp, giusto? A vero che avete 1000 SMS, però, ma, non lo so. Eccolo qua, ti ricarichi facendo la spesa, scopri di più. Andiamo a vedere subito. Utilizzando dei punti di autotessa, associo Coppa, ricarica lato sim, ricarica bonus, 250 punti, sarà 200 di sconto euro, no? Penso che sia un punto, adesso andiamo, andiamo a dare un'occhiata. con il servizio, l'autoricarica con la spesa, riceve automaticamente, una ricarica bonus, copp, urso, 5 euro, ogni 250 punti coppa. Il servizio è riservato, i corsi coppa, che del rischio è un servizio, l'unico coppa attiva, modalità di ricarica, dipende dall'autocooperativa. Bene. Come si attiva? Ah, ok, dovete attivare l'autoricarica. Quanto puoi ricaricare? Vediamo qua, sono curioso adesso, allora, se i soci di coppa, l'alleanza 3.0, ti verrà erogato, un ricarica di 5 euro, quando hai almeno 250 punti, sull'altro tessera socio, e un credito telefonico, inferiore a 20 euro. Se i soci unico coppa, Firenze, ti verrà anche uguale, quindi, ah, ok, qui è diverso, cambia che, non potete avere più di 10 euro, non capisco perché. Se i soci di un'altra cooperativa, che del rischio, ricarica, con almeno 500, tutti i ricarici telefonici, con almeno 250 punti, riceverai 5 euro, e con almeno 500 punti, avrai 10 euro di ricarica, così via, vabbè, anche in quel caso là, è uguale, ok, cooperative che aderiscono, mi metto, 2 secondi, ok, ricorda che, le ricariche erogate, non concorrono al raggiudimento, le bonus, ero attivate a promozione, sulle ricariche, le ricariche ricevute, con i punti da spesa, non sono rimbossabili, in caso di citazione della linea, in caso di portabilità del numero, anche se la ricarica, è regolata con il servizio, dato ricarica, proroga la validità della sim, ok, quindi, allora, è come la ricarica, ok, ma non potete trasferirlo, è un credito bonus, ma proroga la validità della sim, quindi, ok, buono, disattivare, non capisco il senso di disattivarlo, e basta, direi che, vuoi vedere cosa è, io ti casa, forse, mi sa che, liot, sarà qualche cosa di domotica, sì, ok, è domotica, ero curioso di guardare, quindi, concludendo, piccola premessa, poi vi lascio, perché il video sarà già lungo, suppongo, perché conoscendomi, sarò già arrivato minimo ai 10 minuti, se non lo vedete tutto, capisco, insomma, e ci spero, insomma, speriamo, allora, l'offerta, le due offerte, scommesse da entrambe, interessanti, per chi però, facciamo subito, questa promessa, per chi fa spesa la cop, per come avete fatto due calcoli, 9 euro e 50 di base, sono folli, ma, con almeno 12,50 euro di spesa al mese, cosa che secondo me, penso che quasi tutti li fanno, 5 euro di ricarica bonus, la spesa, il costo dell'offerta, arriva a 4 euro e 50, e allora lì, è un altro discorso, 4 euro e 50, 50 gigabyte, minuti limitati, 1000 sms, copertura team, usabili completamente in Europa, senza il discorso che si, che ho sovrapprezzo, cosa così, e, se fate 10 km in bici, accumulato qualcosa, metti che magari un paio di giga li fate al mese, però, perché no, mai non fanno, no? In quel caso lì, sì, la seconda offerta che costava è 5 euro e 90, ovviamente, anche in quel caso lì, la consiglio solo se, siete clienti cop, oppure, siete magari persone che usate poco il telefono, allora, ci potrebbe anche stare di base, anche se in realtà è un euro in meno, vi ho già detto che sono molti operatori, vedono 30 gigabyte, a 4 euro e 90, però, potrebbe ancora ancora starci al limite proprio, e quindi entrambe li consiglio, anche il caso lì, la seconda offerta, 5 euro e 90, fate 200 di sconto euro di spesa, vi tolgono 5 euro, cioè vi danno 5 euro, quindi ha pagato 90 centaviglie al mese, e direi che è buono, anche la linea voce, se siete degli anziani, o magari avete la vostra madre, o vostro nonno, che magari non usano molto internet, e volete fare una sim solo chiamate, ci può anche stare di base in realtà, perché a fin dei conti, le sim solo chiamate, fanno quel prezzo lì, io personalmente, a 4 euro e 50, non consiglio la sim solo chiamate, perché, a meno che non siete clienti cop, come vi ho già detto, fate la spesa lì, e allora pagate zero, e allora va bene, come vi ho già detto, cop conviene se, fate la spesa in cop, in quel caso lì, sì, e anche perché è il discorso della bici, se sono tanto la bici, meglio ancora no, perché a fine ogni giorno, che credete, quello che avete fatto il giorno scorso, quindi, non dovete aspettare un mese, o cose così, e da quello che ho letto, i giga accumulati con la bici, non scadono, però, andiamo un attimo a vedere, perché, ho letto che non scadono, ma, il discorso è, lì c'era scritto, però, che andavano prima dei giga, dell'offerta, giusto? questo qua, voglio guardare io, perché l'avevo letto, forse è sul ricordo, eccolo qua, i giga accreditati, pedalando, non scadono, e vengono consumati, per primi, rispetto ai giga, previsti da tua offerta, cop voce, allora, io al posto l'ora, avrei fatto, tipo come fa Spusu, ok, la riserva dati, metti, che ne so, 10 giga di riserva dati, qui giga là, tu un po' alla volta, li accumuli, li lasci lì, che senso ha dire, che non scadono, però, vanno antecedenti, alla tua offerta, quindi, comunque, li consumerai, non avrai mai lì, disponibili, come emergenza, diciamo, Spusu, è stato il primo, a introdurre questa offerta, in realtà, è la 3, ok, si, parlamoci chiaro, il primo, avrei introdurto questo, in passato, a giga bank, Spusu l'ha fatto meglio, e soprattutto, Spusu non rimodula, non fa prezzi strani, quindi, se io la farò, questa offerta, non penso, perché comunque, io ho già buone offerte, ho due sim team, ho, dischi l'ha disattivato, ho un'altra sim fast, perché la uso come router, ho un sim post mobile, ho troppi sim, ma, se, in futuro, mi dovessi spostare, vicino a una cop, e mi trovassi bene, con i prezzi, allora, potrei anche pensarci, perché no, già che ci sono, la pago 4,50 euro, tanto, è questo che, è un'offerta, che grosso modo, ripropongono, io non ho mai visto, fare offerte, crop superiore ai 50, potrei sbagliarmi, però, ok, io direi, di concludere quel video, se no, magari, mi dilungo troppo, e ringraziare per la visione, vi aspetto al prossimo video, spero che vi sia piaciuto il video, se non vi è piaciuto, se avete dei dubbi, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale, lasciate la vostra posizione in su, e magari condividete con gli amici, e magari portate amici nel canale, se avete modo, e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi, ciao ciao!